Una giornata particolare è quella in cui al palazzo del Quirinale il presidente Mattarella ha ricordato le donne della Shoah e in concomitanza di questo grandissimo evento che ha visto coinvolto il presidente Mattarella e non solo, qui al Crown Plaza il nostro salotto giuridico letterario ricorda un libro importante negli occhi di mia madre. Intanto una prima impressione sulla sua lettura. È un libro che si legge agevolmente e soprattutto che tratta il problema della Shoah, la tragedia della Shoah in modo diverso rispetto a molti altri. È un libro delicato, un libro che parla d'amore, che contrasta l'indifferenza perché dimostra attraverso la storia di questa bambina come non incontrando persone indifferenti si può ottenere la salvezza ed è incredibile come questa bambina ne trovi tante di persone non indifferenti alla tragedia della Shoah. È un libro che ha dei passaggi particolari come abbiamo detto in questo incontro che è stato molto accattivante, sono stati interventi di livello, è un libro che parla di amore, di mamme, di donne coraggiose e di bambini. Di bambini una bambina. Questa bambina però ne rappresenta molti. È vero. I bambini, le donne, la Shoah. Questo è un libro che ci parla dei bombardamenti di Napoli a ridosso di quell'oscuro periodo. Bombardamenti che distruggono palazzi, edifici, muri, i muri delle case che ci dovrebbero proteggere, ma bombardamenti che lacerano e lasciano delle ferite nel cuore. È vero che gli edifici si possono ricostruire ma le ferite del cuore sono più difficili da rimarginare. Sicuramente. Diciamo che le ferite del cuore per noi, in particolare, quella dell'orocaus è una ferita che non si rimarginerà mai. Il dovere che sentiamo è quello che non si dimentichi, che rimanga ora che stanno sparendo i testimoni della Shoah, che si ricordi questa immane tragedia e soprattutto la si analizzi perché non si ripeta più. Nel senso che come è stato possibile diventa incomprensibile. Più si indaga sulle ragioni della Shoah, sulle ragioni dell'olocausto, sulle ragioni di questa tragedia immane più si rimane sconcertati da non trovare una plausibile giustificazione a quella che è stata la follia umana. Io ogni volta che partecipo a questa tipologia di eventi rimango sempre sconvolto perché rifletto nuovamente rispetto a questa tragedia che è insuperabile e non è paragonabile con nessun'altra. Presidente Mattarella oggi al Quirinale ha anche parlato di rischi di ritorni, seppure con carità, focolai, minimi. Ecco, lei come vede la società odierna? Di quest'epoca, non sto parlando, non ci sono colori, sto parlando proprio dell'epoca, del periodo storico. Allora, guardi, qua mi spoglio un momento delle vesti di persona coinvolta in questo problema. Lei mi fa una domanda interessante. Io penso che tanti problemi potrebbero essere evitati attraverso il reciproco rispetto, la cultura, la conoscenza della persona che si ritiene diversa ma diversa non è. E questo vedo che alla società attuale manca. Siamo una società, questi ragazzi sono bombardati da messaggi che molto spesso trascurano i sentimenti. Io penso che dovrebbero essere ritrovati i sentimenti e soprattutto che educazione, cultura, rispetto siano ancora quei punti saldi e fermi da cui non ci si deve discostare. Possiamo provarci cominciando dalla scuola, se ne è parlato anche durante il dibattito? La scuola è la palestra principale per questo tipo di cose. Io sono andato nelle scuole a parlare di questo, sono andato nelle scuole a parlare come avvocato della legalità e quando trovo una platea di ragazzi interessati e che questi valori magari li riscoprono anche attraverso il nostro intervento sento che magari serva a qualcosa. Grazie.